Ho appena registrato il video sulla circolare Trevici del 2023 che è stata pubblicata il 13 giugno scorso sulla quale farò una live, ne parleremo insieme, il video dove ho mostrato tutte le novità, gli chiarimenti, gli approfondimenti che sono stati fatti dall'Agenzia delle Entrate inerenti alle modifiche normative che sono passate dal Decreto Aiuti Quater di novembre 2022, Legge di Bilancio 2023, Decreto 11 2023 convertito in legge con le norme di interpretazione autentica e le modifiche alla gestione del credito e sconto in fattura. In questo breve video ti riassumo in punti, mi sono appuntato i vari chiarimenti, i vari punti, quelli più rilevanti che sono contenuti nella circolare, che comunque realizzerò e spacchetterò in vari contenuti verticali come questi, in modo da darti spot tutti i chiarimenti importanti che sono stati dati. Innanzitutto viene divisa la circolare, salto tutta la parte dei chiarimenti su come calcolare il reddito di riferimento dei 15.000 euro delle uni familiari, lì lascio la palla ai fiscalisti, e salto buona parte delle questioni inerenti, le onlus o le altre associazioni, nei miei contenuti di tratto principalmente ciò che riguarda le persone fisiche, i condomini, i ACP, perché ha a che fare comunque con le persone fisiche, i condomini all'interno degli stessi, quindi eventuale prevalenza di ACP, non prevalenza di ACP. Comunque, senza indugiare oltre, prima di continuare lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi sostenere il lavoro che faccio online puoi farlo attraverso una sottoscrizione mensile, una piccola sottoscrizione che ti permette anche di accedere a contenuti esclusivi, di pormi delle domande attraverso Patreon, alle quali ti risponderò con dei video in forma anonima accessibili da tutti gli abbonati, solo dagli abbonati. la circolare si suddivide, suddivide diciamo gli argomenti in macro aree, condomini ed edifici di unica proprietà, le uni familiari, parliamo sempre di super bonus, le case popolari, poi c'è un chiarimento riguardante gli edifici colpiti dal terremoto e la fruizione in dieci anni. Per quanto riguarda gli edifici, i condomini, c'ho qui gli appunti, quindi ogni tanto guardo giù abbi pazienza, cerco di fare questi contenuti facendo meno tagli possibili, per quanto riguarda i condomini ed edifici di unica proprietà, le deroghe sono tassative, quelle contenute nel comma 894 della legge di bilancio 2023, quindi tutta la questione del presentare la CILA entro il 25 novembre e 31 dicembre, delibera assembleare adottata entro il 18 novembre o entro il 24 novembre, sono tassative, non c'è possibilità di fare diversamente da quanto è previsto dalla norma. Le varianti, che non sono più un problema dopo il decreto 11 alla presentazione iniziale della CILAS, ammettono, comunque permettono di mantenere il 110 e tutta la questione della cessione del credito, sia se sono varianti al progetto, ma sia se sono anche cambi di impresa o dovesse cambiare anche il committente o dovessero aggiungersi degli interventi trainanti trainati in corso e su questo ho sollevato un dubbio a proposito del sisma bonus non previsto all'inizio se era possibile o non era possibile comunque ammetterlo al 110 e all'accessione allo sconto con una variante in corso d'opera, ma su questo non ho la certezza assoluta. La missione degli interventi trainati è possibile anche se la CILA iniziale, ad esempio in un condominio, era stata presentata solo per gli interventi trainanti. Per quanto riguarda invece gli edifici vincolati, dove è possibile, nel caso in cui non sia realizzabile nemmeno un intervento trainante, è possibile accedere al super bonus solo con i trainati, si applica la regola degli edifici diversi dai condomini, quindi la CILA deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022 e quindi anche se è un condominio non serve la delibera, visto che non ci sono interventi sulle parti comuni. Passando invece alle unifamiliari, le unifamiliari si dividono in due, quelle che hanno mantenuto il 110, perché si è disconnesso tutto non ho idea, quello che hanno mantenuto il 110, perché hanno raggiunto un salt 30% al 30 settembre 2022 e le nuove, quelle al 90% con le tre condizioni. Per quanto riguarda le unifamiliari al 110, che hanno l'attuale scadenza prevista al 30 settembre prossimo 2023, è confermata l'impossibilità di fare la transizione al 90% dopo la scadenza. Le spese sostenute dopo vanno o con l'eco bonus ordinario o con l'eco bonus o col sismo bonus ordinario o col bonus casa e anche lì bisogna fare secondo me un po' di attenzione con l'eco bonus i massimali, però l'agenzia conferma che si può agevolare le spese successive indipendentemente da quando sono stati realizzati i lavori con i bonus ordinari e quindi implicitamente ti dice anche se ci sono le tre condizioni non puoi passare al 90%. Per quanto riguarda invece le unifamiliari al 90% con le tre condizioni, lavori avviati dal 1 gennaio 2023, viene chiarita anche la questione appunto dei lavori avviati. Sono ammesse, purché ci siano le tre condizioni di proprietà, abitazione principale e reddito di riferimento di 15.000 euro, purché la CILA sia stata presentata dal 1 gennaio in poi e l'inizio lavori indicati nella CILA sia dal 1 gennaio in poi. Oppure se la CILA è stata presentata antecedentemente, ad esempio nel 2022, bisogna dimostrare che l'inizio lavori è avvenuto nel 2023, quindi o con la data indicata nella CILA o con un atto notorio fatto dal direttore lavori. Le condizioni di proprietà del titolare, di diritto reale o di proprietà, quando deve sussistere? Nel momento dell'inizio lavori, punto. E invece quello dell'abitazione principale, quando deve sussistere? Anche questo al momento dell'inizio lavori, ma l'agenzia aggiunge che se non dovesse essere maturato all'inizio dei lavori, è comunque ammesso se viene fatto a fine lavori. Io ho aggiunto una domanda, come faccio sempre, come lo si attesta che dopo la fine lavori è diventata abitazione principale? Passando invece alle case popolari, condomini dove ci sono gli ACP, se c'è la prevalenza su base millesimale di istituti autonomi delle case popolari, si applicano le regole dell'IACP, cioè con il SAL 60% entro il 30 giugno di quest'anno, allora scadenza fino al 31 dicembre 2023 di quest'anno. Se non c'è la prevalenza si applica il regime ordinario dei condomini, quelli che ti ho detto prima all'inizio. Nelle zone terremotate, gli edifici colpiti dal terremoto ammessi al contributo per la ricostruzione, mantengono il 110 come super bonus fino al 31 dicembre 2025, senza tenere conto delle condizioni reddituali e le altre condizioni previste per le unifamiliari. Si fa riferimento al comma 8 bis, ma quelle tre condizioni per le nuove unifamiliari 2023, se è un edificio colpito dal terremoto a far data dal 1 aprile 2009 in poi, se non ricordo male il 1 aprile 2009 in poi, nelle zone dove è stato dichiarato l'estate d'emergenza, ci deve essere la scheda A, che ammette poi al contributo, le tre condizioni per le unifamiliari non rilevano. Perché? Perché si riferisce agli immobili danneggiati, non al soggetto. E poi infine arriva la fruizione in dieci anni, con il chiarimento che era già stato dato, cioè la possibilità di fruire in dieci anni delle spese 2022 super bonus dal 2024, dalla dichiarazione 2024 che si riferisce al periodo 2023, purché quest'anno, nella dichiarazione di quest'anno, non venga indicata la prima delle quattro rate ordinarie con le quali si fruirebbe in dichiarazione del credito super bonus. Questa è un'opzione che è stata data perché A, il mercato della gestione è bloccato, B, perché dividere in quattro il super bonus 110% determina una rata molto alta e moltissimi sono tagliati fuori dall'agevolazione. Dividere in dieci rate invece la rata si abbassa, quindi c'è un maggior numero di contribuenti che potrebbe usufruirne dell'agevolazione, però questo non risolve tutti i problemi, ma lo sappiamo già. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui, lascia mi piace se ancora non hai fatto, ci vediamo al prossimo contenuto.